Anche la prossima coppia ormai è famosissima, è un po' un orgoglio italiano perché ci avete riportato a casa qualcosa di importante. Ormai sono i nostri rappresentanti nel mondo e con grande onore ne abbiamo qui con noi Alexia Endrimintri, sempre live sui Jumping Up. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.